I carabinieri di Schio impegnati nel controllo del territorio hanno portato a termine due operazioni con infermo e successiva denuncia di un uomo per tentata rapina commessa nel territorio scledense. Il deferimento è scattato nei confronti del soggetto solo per uno dei due episodi. Si tratta di un cittadino straniero che nel maggio scorso ha rubato una bicicletta e bike del valore di oltre 2000 euro. I militari del nucleo operativo radiomobile della stazione scledense dopo gli accertamenti di rito e la fase identificativa del sospettato hanno rinvenuto tra i beni in suo possesso la bici rubata sei mesi prima a Piovene Rocchette. A chiusura delle indagini il rapinatore è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza per ricettazione. Dopo aver chiuso la vicenda è iniziata la ricerca del proprietario del ciclo che in breve tempo si è presentato in caserma. In un'altra operazione portata a termine nei giorni scorsi in carabinieri impegnati a perlustrare uno stabile abbandonato nella zona del centro di Schio hanno rinvenuto un'altra e-bike del valore di 1000 euro in stato d'abbandono. Dal controllo delle denunce effettuate dai cittadini risultava il provento di un furto del 2 novembre. Anche in questo caso dopo aver individuato il proprietario la bici è stata restituita.